Undici enormi falò saranno accesi nel Parco Nazionale di Nairobi per il più grande rogo di oro bianco della storia. Un evento che vuole essere un grido d'allarme e allo stesso tempo un passo concreto contro il bracconaggio di elefanti e rinoceronti per avere lavorio. Davanti alle telecamere di tv di tutto il mondo, sullo sfondo della savana, il presidente Ururu Kenyatta lancerà il simbolico incendio di una piramide composta di zanne ed elefante. Altri ospiti faranno poi lo stesso con altre dieci torri, alte alcuni metri. In tutto circa 105 tonnellate di zanne e corni che bruceranno per giorni, mandando in fumo così circa il 5% dello stock mondiale di avorio, accumulato abbattendo quasi 7.000 pachidermi e centinaia di rinoceronti. L'obiettivo della pubblica cremazione è quello di sensibilizzare e arrivare a bloccare lo sterminio di questi animali a rischio estinzione. Ogni anno i cacciatori di frodo uccidono circa 30 mila elefanti.